Siamo qui con il motoclub Africa P Italia, sezione Piemonte, però abbiamo anche un ospite d'eccezione che abbiamo il Presidente Italia venuto direttamente da Milano. Sì esatto, sono partito stamattina anch'io per stare con i miei amici. Sì, perché di Lombardi non ne sono venuti molti, però chiaramente essendo che siamo qua in Piemonte e con Lombardo, la maggior parte sono piemontesi, circa una trentina via pochi sanno che oggi è anche l'ultimo giorno utile per fare i giri fuoristrada, per fare il Val Difuso, perché chiuderanno a breve le strade a circa 2000 metri, quindi diciamo che il parco giochi sta per finire, ma noi non potevamo sprecare quest'ultimo fine settimana. Qui abbiamo un amico Claudio, Paolo e Andrea, loro seguono i due laterali da parte Piemonte e lui da parte centrale. Adesso dove andremo dopo questo giro? Adesso ci balicheremo verso la Valle Susa e poi ci fermeremo a mangiare in trattoria, ovviamente, per concludere la giornata, come si confatti di buoni motociclisti. E ci tengo a dire che questo è il decimo anno che facciamo la ferra del Piemonte Bombardo nel primo giorno di apertura utile del Valico, perché tutto iniziò dieci anni fa quando due amici e soci provarono nella scalata ma si fermarono con la neve. Quindi da lì è poi nata la voglia e l'impegno tutti gli anni di ritentare con qualsiasi condizionamento. È la sfida soprattutto, è la sfida di balicare. Quest'anno siamo tutti sfortunati perché le strade sono pulite, non c'è neve, quindi stiamo divertendo. Sì, soltanto è molta pietra smossa. Diciamo anche, per chi non conoscesse questo monte, che il nome del Lombardo nasce da un'antica leggenda perché si racconta che i Longobardi su questa montagna nascosero un tesoro. Noi quasi tesori non ne abbiamo trovati a livello di oro. Diciamo che i tesori veri sono poi la compagnia, il paesaggio e poi la passione per le due ruote. Adesso si riparte. Ciao a tutti! Il nostro caldo ci dice che siamo quasi a Colombardo, sulla punta più alta, 1991 metri. Stiamo scendendo dal colombardo, abbiamo passato al primo pezzo di strada abbastanza vicida, fango, pietre smosse. Adesso ripartiamo con il nostro CRF 1100. A tenerci in compagnia c'è sempre la nostra amica Andrea, coordinatore del club Piemonte, la sezione Piemonte dell'Africa Queen. Qua vediamo vecchie bike, ma veramente forse degli inizi del secolo, del Novecento. Ormai forse abbandonate, anche se non è una super giornata, è sempre bellissima la nostra discesa. Sarà l'ultima di questo 2020 che ormai è alle porte la neve. A noi, ripartiamo. Man mano che si scende i Val Sud si vedono le prime case. Un altro display touch dell'Africa ci sta dicendo che sono adesso le due. Quanto manca Andrea al ristorante? 10 km. 10 km, va bene dai. 4 o 4 km, 20 minuti di vita e ci siamo. Eccoci qua, siamo arrivati al ristorante. Qualche amico con l'Africa è già arrivato. Ma ci siamo anche noi. Quận maschi, manca dependo. Grazie per la visione!